bella mitici trasporto trasporto cemento allora abbiamo il nostro mezzo con cemento si fa c'è la nevatta allora abbiamo cimento ah uno è già qua eh dobbiamo recuperare il cemento ragazzi io ho paura che non ce la faccio allora facciamo una cosa ok c'è abbastanza è stato detto no non toccarmi dentro il vediamo che stanno andiamo se mi tira dritto oddio facciamo un po' tutti i scotti eh devo tirare fuori tanto il gancho dai qua non c'è la gru è non c'è la finia anche un eh ma così è un po' è un po' trepaldino eh è un po' spaccare i saccetti di ah ma che roba non c'è la fa che fa troppo dai che forse si è andata bene è andata bene raga diciamo che nella realtà se lo caricavo così ero licenziato però qui c'è questa meravigliosa cosa di imballa guardate come sono giù come sono giù come questo tatra riesce a tirarmi fuori dalle situazioni un po' di pericolo adesso dobbiamo andare a prendere quell'altro però dobbiamo stare più vicini allora si facciamo così ok ok forse sono un po' troppo vicino a pelo a pelo a pelo no devo fare così raga guarda a carico adesso si ok raga manovra complete ok dopo lo lo chiudiamo adesso dobbiamo andare a recuperare quello e qua c'è un botto di neve oh l'ho fissato ancora di più no ragazzi così non va bene vabbè vediamo se riusciamo a non ribaltarsi ok ok perché è anche tutto è tutto storto è un po' ok così forse allora sì grande camion faccio tutto da solo ok abbiamo i quattro il camion fa le manovre è tanta roba tanta roba ah ma la casa è qui proprio sono già arrivato bello quindi gli stavano portando ah quella lì c'è una trenza ahi ahi aspetta un secondo stavo perdendo l'ultimo e anche perché se non lo imballi praticamente non te lo conta allora a finire questi posti spiegarmi un po' poi allora trasporto cemento ragazzi questo è molto più recente questo è molto più recente ok ho fatto tutta è molto più recente andiamo ad andare indietro a questo l'hova chiude! 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 vedete chiude? chiude troppo! è il casino ragazzi che sta aperto eh! no, così no! stop! scuola guida for damage scusa Peppi ho scassato... stai andiamogli là! trova di quando è così è già troppo! sti camion non hanno una... poi chiude! chiude! spuscia unito! va! sversiamolo fuori! va a forza! che casino i carretti! vabbè ragazzi dai! trasporto di cemento! ciao ragazzi alla prossima!